Vuoi sapere come rendere una serata dolce con le specialità della migliore pasticceria o frizzante con l'aperitivo giusto? E ancora, vuoi sapere come trascorrere momenti speciali all'insegna di una gustosissima pizza? Le saline è la risposta esatta! A Marzamemi, in centro, aperto, è il bar, pasticceria, gelateria e pizzeria self-service, le saline. Il posto giusto per gustare pasticcini, torte e gelati artigianali o per sorseggiare drink e aperitivi prodotti con ingredienti sani. E non dimentichiamo le pizze e le specialità del nostro self-service, tutte deliziose, tutte da assaggiare. Il bar, pasticceria, gelateria, pizzeria, self-service e le saline ti aspetta a Marzamemi, in centro. Telefono 0931 84 16 89. Le saline, perché resistere alla tentazione?